Oggi ore 15, sono alle cascate di Val Codera, sono sceso comodo col treno a Novate Mezzola, dopo Verceia. Va che belle queste cascate qua, bellissime, però non c'è il cartello indicativo col nome delle cascate. Sono qua in questo momento in provincia di Sondrio, qua c'è il torrente che fa una specie di naviglio questo torrente. Peccato che oggi c'è tanta gente, non posso mettermi senza niente perché c'è tanta gente. E c'è qua il naviglio anche, poi queste belle rocce che vanno al paese sottostante di Novate Mezzola, dopo il treno. Poi proseguendo col treno si va fino a Chiavenna, ecco qua il torrente, Aldo, Aldo.